Il 18 e il 19 di luglio, perché realizziamo il 18, che è un sabato, il corso sull'orto sinergico in particolare e il giorno dopo, domenica 19, realizziamo invece un corso di orto sul balcone. In quelle due occasioni sicuramente insieme vedremo la manutenzione dell'orto, vedremo naturalmente la parte teorica e quindi insieme faremo qualcosa di concreto. La parte importante è la sinergia tra le persone, coltivare in questo modo riesce a far scattare anche delle sinergie tra le persone. Questa è una cosa bella, quando si capisce che insieme, se si è diversi, si può collaborare, scappa anche qualcosa all'interno della mente delle persone e questa è una cosa molto forte.